Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità? E quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, tv e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook. Con grande piacere ritrovo oggi Michele Putrino, scrittore. Ciao Michele, ben trovato con me. Ciao Beatrice, buon pomeriggio. Allora, con Michele Putrino all'interno della rubrica I segreti del potere su Fabbrica della comunicazione, oggi parliamo della situazione attuale che si sta vivendo in questi giorni in Italia con la caduta di Draghi del suo governo e con il fatto che le elezioni sono abbastanza vicine, quasi da poterle toccare. Chi ci pensava a un'eventualità di questo tipo? Quando tante volte si dice Michele, ci faranno votare sì ma quando eravamo tutti quanti abbastanza così pessimisti su questo punto e invece al contrario adesso ci ritroviamo che stiamo facendo delle valutazioni su quelli che potrebbero essere partiti interessanti che potrebbero traghettarci verso un nuovo destino, magari migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Nonostante tutto però le problematiche sono sempre dietro l'angolo e per questo che ne parliamo con te perché si aprono diverse visioni del mondo proprio in questi giorni. Vogliamo farne una valutazione? Certo, assolutamente. Ed è importantissimo avere subito il quadro delle visioni del mondo che ogni partito ha. perché? Perché poi da lì arriveranno le azioni di conseguenza. Alla fine la visione è un po' il progetto che uno ha su come agire, come mi muoverò una volta ottenuto il potere o comunque almeno una parte del potere. Dunque se noi guardiamo la politica normalmente ci sono due approcci, due o tre approcci in sostanza, non di più. Possiamo dire che c'è l'approccio cosiddetto marxista, adesso spiegheremo cos'è, di cosa si tratta, da non confondere tanto con la filosofia di Marx, anche se ovviamente prende il nome da lì, il famoso liberismo-capitalismo e poi l'approccio etico. In genere se andate a guardare le strutture politiche e le strutture di governo in generale sono una di queste tre strutture. Allora, premettiamo subito che l'approccio etico in sostanza non esiste più da un bel po' se si è andato a fare benedire da tempo. Le due strutture che sono rimaste nell'ultimo secolo, quantomeno nell'ultimo mezzo secolo, sono quella marxista e quella capitalista, liberista, insomma sappiamo bene tutto il resto della struttura. Le due in realtà sono, come dicevano un tempo molti studiosi, due facce della stessa medaglia. Perché? Perché tutte e due queste visioni si basano su una visione materiale della realtà e soprattutto sul credere che l'uomo può tutto e il contrario di tutto sull'uomo stesso. Ergo, se io sono un capitalista, un liberista, un neoliberale e così via, tutto quel mondo di cui parli anche molto volte e con i tuoi ospiti qui sul tuo canale. Cosa crede una persona del genere? Crede che con i soldi posso fare tutto, quindi si tratta di ottenere tanti soldi e con i soldi poi gestisco il potere, gestisco ad esempio anche l'ecologia, l'ambiente, la struttura sociale, attraverso la psicologia posso modificare il pensiero delle masse, attraverso la propaganda posso modificare il pensiero delle masse, bla 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 bla, eccetera, eccetera, ed è tutto quello che vediamo noi oggi. Di conseguenza, di solito, in un mondo materialista come il nostro, in cui prevale il materialismo, la reazione che si ha a questa situazione è marxista. Cioè, questi sono potenti, questi vogliono utilizzare tutte queste tecniche, queste strutture che ti ho appena elencato, noi li dobbiamo fermare perché sono cattivi e per fermarli quindi, proprio perché l'uomo, vedete l'idea è sempre la stessa, proprio perché l'uomo può tutto sull'uomo, è l'uomo artefice del suo destino e così via, allora noi dobbiamo cacciare via questi cattivoni che sono al potere, andare noi, il buono della situazione, è cambiare tutto perché l'uomo, appunto, può tutto secondo sia questa visione che l'altra, ripetiamolo all'infinito, ma è un nocciolo centrale della questione, e una volta arrivati al potere, risolveremo tutto perché possiamo essere artefici del nostro destino. Ok, queste sono le due strutture che ci sono oggi. Oggi domina in Occidente ovviamente la visione capitalista, insomma anche sotto l'aspetto progressista, ma si tratta di quello. La reazione che alcuni partiti, soprattutto quelli che si stanno creando adesso, se ci fate caso, stanno prendendo la linea marxista. Quindi dobbiamo togliere questi potenti e cominciare a fare la rivoluzione dall'alto. Ora, questa visione rispecchia esattamente quella che un tempo si diceva la via per l'inferno e la stricata da buone intenzioni. È una visione, attenzione per quanto affascinante e bella, idealmente, pericolosa. E vi spiego, e diciamo, chiariamo anzi subito il perché, perché altrimenti uno può rimanere e dice che cosa stai suggerendo, che dobbiamo lasciare la situazione com'è? No. Però dobbiamo vedere cosa c'è, cosa viene proposto dall'altra parte. Allora, attenzione, perché avere un approccio marxista, cosa vuol dire? Che quando poi andremo al potere, ok, ci ritroveremo, mettiamo così, se io, tu e altri facciamo parte di questa visione, andiamo al potere, cosa si fa? Bene, abbiamo due opzioni. O ci accorgeremo che la situazione al momento, la situazione è più grande di noi, non posso, questo non lo posso toccare perché accadrebbe in realtà un macello, è come tirare una pietra, una pietra portante, rispetto ad una casa, quindi questa non la posso toccare, perché se tiro fuori questo, poi mi crolle il palazzo da una parte. Allora cosa faccio? Tiro, tolgo quest'altra parte, elimino quest'altra parte, poi magari vado ad analizzare questa situazione e mi accorgo che non posso fare nemmeno quello. E così via. pensiamo alla Nato, la Nato è chiaro che è un problema per l'Italia perché nei fatti è il far parte dell'impero, in sostanza, dell'impero americano, quello lì, la Nato, chi segue queste cose lo sa ormai da tempo, non è altro che un vestito camuffato dell'impero americano, cioè chi fa parte della Nato fa parte dell'impero americano. Ora attenzione, proprio perché si fa parte dell'impero, questo vuol dire che non è che l'abbiamo scelto noi di entrare nell'impero e dici, sai, oggi non mi sta più bene, me ne vado dall'impero. Voi immaginate, non lo so, pensate all'antica Roma, ecco quella situazione che succedeva, come viene riportata tante volte anche nei Vangeli, insomma nei racconti antichi, la Palestina, Gerusalemme si ribellava nei Romani, cosa facevano i Romani? Gli dicevano, ok sì, voi volete staccare, che problema c'è? Non è un problema, andate, no, non funziona così. Quindi è bello il discorso, sì, dobbiamo essere indipendenti, dobbiamo essere artefici del nostro futuro, poi però nei fatti, quando si arriva al potere, i discorsi cambiano, e di questo la gente lo deve sapere, bisogna iniziare ad aprire gli occhi, perché non bisogna fare sempre i soliti discorsi, perché il Movimento 5 Stelle era partito così, state tranquilli, sono arrivati lì, si sono accorti che le cose non andavano come pensavano loro, e piano piano si sono riadattati al problema, adesso si sta ripetendo lo stesso schema, capite? è una cosa seria, io lo so che alcuni mi prenderanno in antipatia per quello che sto dicendo, però a me si interessano cose più importanti delle simpatie, delle antipatie, a me interessa il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, è qualcosa di più grande di me, di te, di chiunque ci sta ascoltando in questo momento, perché dobbiamo capire questo, non è un gioco, non è una partita, quindi cosa succede? che se uno comincia a ragionare in quel modo, poi arriva al potere, e cosa accade? Accade che ad un certo punto, molto spesso si riadatta al potere dinamico, che si trova in quel punto, e quindi poi succede che la gente guarda questa situazione, dice venduti, sono stati manipolati dal potente di turno e così via, no, non funziona così, certo che ci sono i potenti che cercano di comprarti, certo che ci sono i potenti che cercano di trascinarti e così via, quello è ovvio, è normale, è elementare, ma il noccello della questione è che quando tu arrivi lì, ci sono cose più grandi di te, che se tiri fuori, è un po' come la carta, le carte di un castello di carta, tu ne tiri fuori una, ti crolla poi tutto. Se invece Michele, una volta che questi personaggi arrivano al governo, e quindi arrivano proprio al potere, decidono che è importante che l'Italia si stacchi finalmente, che quindi, non so, per esempio si esca dall'Unione Europea, si faccia stato a sé stante, è fattibile questa cosa? È possibile che si possa arrivare a questa idea per il nostro paese? Allora, teoricamente è molto difficile, perché ricordiamolo, facciamo parte di un impero, e nessun impero ti lascia andare così tranquillamente, ma ammettiamo anche per ipotesi che uno riesca a fare questo, e dopo sapete quale sarebbe la conclusione, quale sarebbe la situazione? Che saremmo tagliati fuori da tutti i sistemi economici, da tutto il sistema politico internazionale, in sostanza come il Venezuela, se vi piace l'idea di essere ridotti stile Venezuela, tanto i capelli. Però non era detta la stessa cosa per quello che riguarda l'Inghilterra, cioè con la Brexit tanti hanno creduto di poter fare lo stesso ragionamento, quali sono le differenze? La differenza è che l'Italia ha perso la guerra nella seconda guerra mondiale, l'Inghilterra no, noi siamo una colonia, loro sono alleati degli Stati Uniti, per quanto poi alleati pure loro ormai non riescono più a vincolarsi, ma hanno una certa autonomia gli inglesi, così come hanno una certa autonomia i francesi. Italia e Germania hanno perso la guerra, ok? Questo deve essere chiaro a tutti, è una cosa, non è una cazzata, è una cosa importante, e perdere la guerra significa essere stati integrati con gambe e piedi all'interno del sistema americano, e gli americani non mollano stati così grandi come l'Italia e la Germania così. Un conto è la Francia, infatti la Francia aveva deciso tempo fa di uscire dalla NATO, insomma aveva fatto i suoi giochi internazionali, un conto è l'Inghilterra, che però si è alleata, ha potuto fare questa cosa della Brexit, attenzione, altra cosa importante, perché è alleata con gli americani, cioè gli americani hanno appoggiato tranquillamente questa situazione, che è un po' un gioco che sta cercando di ripetere, a mio parere da quello che vedo, la Meloni, cioè sta cercando di tenersi come alleati gli americani, quindi non si esce dall'impero, ma per staccarsi dal circolo che c'è all'interno dell'Unione Europea. Fateci caso e vedete che è il movimento che sta cercando di fare, perché? Perché nell'Unione Europea governano i progressisti, in America invece i repubblicani stanno cercando di dare una mano a questo partito per fare questo tipo di gioco, un po' stile inglese, quello si può fare, ma fare invece un distacco totale in quel caso sì che significherebbe metterti contro gli americani significa aver finito. Guardate che l'Unione Europea era nata proprio per diventare all'inizio uno Stato poi autonomo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono riusciti a fare a pezzi l'intero Unione Europea, questo gruppo di Stati europei che cercavano l'autonomia, gli hanno lasciato l'economia, sì divertitevi con l'economia, i soldi, la moneta, quello che volete, ma sulle cose serie. Pensate che può riuscire l'Italia da sola a staccarsi dagli Stati Uniti, ma stiamo scherzando. Capite? Sono cose serie, perché bisogna dirle? Perché io capisco benissimo questi partiti nuovi, animati, da buone intenzioni, però bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna guardare la conseguenza di questa situazione. Senti, per tutti quanti coloro che invece sostengono che sarebbe bene non votare affatto, in modo che le forze politiche tutte si rendano conto che l'oltre metà degli italiani, per esempio, non è d'accordo con le loro scelte, con i partiti, con i programmi, e quindi dare in questo senso un segnale forte. Ricordiamo che c'era chi voleva restituire la testa elettorale, chi voleva semplicemente praticare un astensionismo importante e significativo. Ci sono persone che da più parti si levano proprio a dire agli altri non andate a votare, perché così si pone un freno. Secondo te in questo senso chi ha ragione? Guarda, qui in questo caso torniamo di nuovo sullo stesso, guarda che è una versione del marxismo più estremo. L'anarchismo, nel senso della sinistra, perché ci sono due nature dell'anarchia, però l'anarchismo classico è di stampo marxista, cioè una versione ancora più estrema, l'individualismo più estremo, che dice stacchiamo proprio la corrente al potere. E cosa pensate sempre lì? Io invito sempre ad esercitare la prima virtù cardinale, che è quella della sapienza, della riflessione, della ragionevolezza. Riflettate a quello che può accadere dopo, ditevi, col metodo socratico, ok, e se dovessimo fare questo, cosa accadrebbe dopo? Non lo fa mai nessuno, pensa sì, liberiamoci dai cattivi, sì, c'è il male, togliamo il male, poi risolveremo le cose. No, fate l'esercizio, siamo esseri umani, utilizziamo il logos, utilizziamo la ragione. Io quello sto cercando di fare qui, non sto dando torto ragione a nessuno, io sto soltanto dicendo, signori, ragioniamo, vediamo come vanno le cose, cosa accadrebbe se? Ok, allora, immettiamo la stessa identica situazione, mettiamo che domani non andiamo nessuno a votare, chi pensate che poi prenderà il potere in Italia? Non cadrà la nazione a vuoto? Se anche dovesse cadere, voi vi immaginate una nazione, un territorio come l'Italia, fatto di 60 milioni di persone senza governo? C'errebbe il caos, sarebbe il film tipo Mad Max, ci scanniamo tutti, cosa che non potrebbe accadere, perché ovviamente poi ci sarebbe qualcuno, un terreno vuoto di potere, lo prende sempre qualcuno, ovviamente ci penserebbero gli americani, oppure eventualmente, cosa più probabile, una oligarchia come è avvenuta ai tempi del crollo dell'Unione Sovietica. Volete questo? Volete un'oligarchia di potenti in accordo con poteri sovranazionali, internazionali come Washington, come altre strutture, altre multinazionali a gestire questa situazione? Perché questo significherebbe? Parliamo concretamente, è bello dire, sì, diamo un segnale, sì, diamo il segnale, e poi, e se anche dici, no, ma andiamo per dare un segnale, così andrà a votare solo il 30%, secondo voi, quelli che andranno a votare, chi saranno, se non quelle a cui stanno bene certe cose come sono andate oggi. Perché è ovvio, no? Chi andrebbe poi a votare? Chi, fino a questo momento, le cose mi, io ho ritenuto perfette e ci tengo che rimanga al potere questo individuo, questa signora, così via. Quindi, signori, cerchiamo di essere concreti, perché io vedo sempre che poi è giusta la ribellione, è giusto il cercare di cambiare le cose, ma guardiamo in faccia la realtà. Allora qualcuno in questo momento potrebbe dire, sì, vabbè, allora che facciamo? Ecco perché io insisto in continuazione, guardate che c'è una terza soluzione ed è la terza soluzione, quella che è stata portata avanti da millenni, è quella su cui gli stati hanno retto ed è quella etica, da non confondere con lo stato etico, ovviamente che è un'altra storia. L'etica significa, il comportamento significa che tutti noi dobbiamo puntare a diventare delle persone talmente elevate eticamente, talmente signori con la S maiuscola, signori con la S maiuscola, da diventare esempi viventi, da spingere le persone che ci ha accanto ad essere poi come noi e a chiedere, a far diventare questa cosa talmente tanto diffusa, da spingere, qualsiasi governo poi andrà al potere, qualsiasi governo, a puntare su questo. Capite? Quando hanno fatto le scuole, vi siete mai chiesti da dove spuntano le scuole? Perché ci sono le scuole? Perché c'erano dei movimenti culturali, etici, delle persone con una grande influenza etica, che erano riusciti a convincere le persone che contavano allora, attraverso anche puro movimento di massa, che era il fondamentale, importante, innalzare lo spirito dell'uomo attraverso la conoscenza, farlo uscire dall'ignoranza. Capite? Altrimenti, secondo voi, a qualcuno poteva interessare di istruire le persone? È quello che dobbiamo fare, è quello a cui dobbiamo puntare. Allora, in quel caso sì che puoi cambiare le cose, ma in quel caso lì, in quella situazione lì, potrei spingere chiunque sarà al governo a cambiare in quel modo. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma se ci sono gli stronzi, è ovvio che adesso ci sono le elezioni, spingete a votare le persone che ritenete più corrette, le persone che, soprattutto pensate, possono fare qualcosa a livello etico in questa nazione, quello sì, ma non puntate su queste altre cose di illusione, perché finiremo dalla padella alla braccia. Hai fatto molto bene a fare questa differenziazione, questa disamina Michele, perché io ritengo che tra votare e non votare ci sia ancora tanta gente confusa che si sta chiedendo, si sta proprio domandando questo. Magari persone che allo stesso tempo hanno aspettato così tanto per poter andare a votare che oggi si trovano invece nella difficoltà di sapere per chi votare per riuscire a cambiare le cose veramente. Quindi credo che sia veramente molto importante quello che hai voluto sottolineare tu, per il quale ti ringrazio e naturalmente spero di ritrovarti ancora presto per fare un'altra chiacchierata insieme. Dimmi. Vorrei aggiungere solo questo, vedi Beatrice, io ci tengo veramente alle persone, lo sai, io quello che predico, utilizziamo questa parola, non lo dico né per interesse, lo sai che avrei potuto fare tutt'altro, era un discorso di interessi, non lo faccio né per darmi aree, né per mettermi al centro dell'attenzione, né per apparire quello intelligente, non me ne frega assolutamente niente di tutto questo. Io ci tengo veramente alle persone, ci tengo ad una visione, a quella cosa che si chiamava un tempo la virtù, essere virtuosi. E sapete perché? Perché mi fa stare bene. Quando io agisco in maniera che sento giusta, dentro di me sento fiorire qualcosa, mi fa stare bene, anche nonostante i problemi magari economici, sociali e quello che vogliamo. Ecco perché lo faccio. Ci tengo a sottolinearlo per far capire alle persone, attenzione, state attenti, guardate veramente le cose che contano sul serio. E quello che conta sul serio è veramente l'anima, lo spirito interiore. E queste cose ti fanno sentir bene quando agisci in maniera virtuosa e quando agisci veramente per il bene degli altri. Al di là delle illusioni o degli autoinganni in cui cadiamo in continuazione. Hai fatto bene a ribadirlo, ancora una volta non era necessario, però credo che sicuramente per chi ci guarda e chi ci ascolta, come dire, è ripetita Juvent, quindi bene così. Grazie Michele Putrino per essere stato con me. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, bene. Grazie a tutti. Ciao.